Sono cresciuto in una famiglia di lancisti e la Delta HF è sempre stata la mia passione. I servizi offerti dalle officine classiche si dividono in più rami. Dalla certificazione per garantire l'autenticità della vettura, siamo in grado anche di restaurare la vettura sia meccanicamente che a livello estetico di carrozzeria. Il processo della certificazione della vettura consiste nel visualizzare tutte le parti meccaniche per garantire al cliente la sicurezza di ciò che ha in mano. Il porto cambio è apposto. Noi guardiamo dai freni alle sospensioni, alla meccanica, i semiassi, il cambio, che il motore sia come quando è nato. Alla fine della certificazione rilasciamo un boot fotografico. Ogni parte meccanica viene valutata con un punteggio. Logicamente più elevato il punteggio, più garantiamo l'integrità del pezzo. Il certificarlo porta un valore aggiunto alla vettura. Chi meglio di chi ha prodotto il mezzo può dare una certificazione di autenticità. I brand di FCA hanno scritto la storia dell'automobilismo. L'avete messo sotto i riflettori come una star. La creazione di un ente dedicato al patrimonio storico, con la sua offerta di servizi rivolta al mondo degli appassionati, è stata un'iniziativa straordinaria. La Lancia Delta HF Integrale è la mia passione senza tempo. La Lancia Delta HF Integrale è la mia passione senza tempo. La Lancia Delta HF Integrale è la mia passione senza tempo. La Lancia Delta HFInterale è la mia passione della strada.